Completamento della piegata, inizia a prendere velocità il mezzo meccanico. Via la macchina in velocità. Ottimo il lancio. Si va alla chiusura. Con allargo facile Pryson Mach nei confronti di Panzer LP. Lungo i birilli Platin con allargo Posh All Fast. I cavalli che affrontano la piegata con l'allievo di in proda Panzer che punta in avanti. Completamento del lancio nell'ordine del 15 e 1. Ma mi sa che corre al comando il buon Romanelli. E in proda a miti consigli parcheggia con il Grattino in terza posizione. Si va. 400 in 31. Autoproblemi in numero 1. E cavalli che affrontano la piegata si fa vedere il favorito Pucci Italia. E gradatamente il Pucci Pucci risale la comitiva. Si va dopo 645.7. Tutto sommato non male l'andatura. E il Pucci va a diretto contatto con Pryson. Poi Platin. Poi Panzer. Completamento anche di questa piegata. Mezzo miglio in 1. 1.9 davanti alle tribune. In pole position. Il 6.11. Pryson e Pucci Pucci. Si va. Primo chilometro. La coppia lo passa in 14.6 addirittura. E cavalli che affrontano la penultima curva. L'andatura per la categoria è micidiale. E così solo per il momento Platin non perde contatto. Frazione in 15.3. Il 3 a tabellone. Torna alla carica Pucci Pucci. Si difende ancora Pryson. Poi Platin. Gli altri. Paletto dei 600 finali. Frazione in 14.5. Anche l'8 a tabellone. Viene via Perlaro Ramnis. Servita a dovere per l'andatura micidiale. E si avvicina la lieva di Gallucci. Torna in vantaggio Romanelli e il suo Pryson. 1.59 il miglio. Pryson in vantaggio. Pucci Pucci parcheggia. Viene via Gallucci con Perlaro Ramnis. Tre cavalli in diagonale. Retta d'arrivo. Tenta lo stacco il leader. Pryson in vantaggio. Pucci ci ripropone. Si propone soprattutto Perlaro Ramnis. Il ragioniere ci crede e ci prova. Va sull'in leader. Lotta serrata. Ma Romanelli porta a casa la vittoria. Con questo Pryson Mack. 2.29 sul mio cronometro. Al terzo un buon Pucci Pucci. Ma la vittoria non sfugge ancora un allievo di Romanelli. In un periodo magico. Soprattutto per il training. Ma anche per la guida. Al doppio nel pomeriggio. Il buon Romanelli. Presente e guida la grande. Questo Pryson Mack. Un figlio di Dream Vacation. I sempre Romanelli al training. I colori di Giancarlo Maso. Pryson Mack. Al doppio nel pomeriggio.